Buonasera a tutti amici, fan, hater, soprattutto loro, so che ne ho molti, sotto che non mi piace anche stavolta, mi raccomando. Allora, so che sono mancato per molto tempo dal canale. Questo video lo volevo già fare due mesi fa, perché parla di un evento avvenuto il 18 febbraio. Devo un po' ingranare di nuovo con questo canale. L'evento in questione è il primo raduno di Splatoon 2 Italia, ovvero lo Street Zone Meeting di Modena, appunto il 18 febbraio 2018. Ho avuto vari problemi e non ho voluto continuare a editare questo video, però adesso ho detto dai basta, è venuto il momento. Quindi riutilizzerò i file che già avevo preparato, ma bando alle ciance e via. Salve! Qualcuno vuole dire qualcosa? Sì! Buongiorno, sono Ottobit, capitano dei Paint Shock. Sono qui con il mio compagno, Tony F, e il nostro quasi compagno, Hiro. Quasi perché gioca con noi ai tornei italiani, però non è nella squadra, è nei Creme Fresh, famoso team internazionale. Famosissimo team! È la prima volta che vengo a uno Street Zone e mi dispiace un po' che non si possa fare un torneo con un team completo, ma solo in coppia. Però ci siamo allenati comunque in questo formato, io e lui faremo una coppia insieme. Grazie mille! E nulla, sì purtroppo le regole di Nintendo per i tornei sono queste. Casuali, completamente casuali. Ah, completamente casuali! Il regolamento è quello, quindi se vogliamo i punti bisogna fare come dice Nintendo. Quindi Nintendo dice casuali, casuali sarà. Oh, c'è qualcuno già a livello otto stellina. A livello otto stellina. Che bellino. Chi è otto stellina? Bravo otto stellina! Io non ci arriverò mai. Nemmeno tra dieci anni. Volete essere disturbati? Cosa state facendo? Cosa state facendo? Stiamo montando una postazione che in teoria servirà come spettatore per quando faremo i torni oggi pomeriggio. E per testarla abbiamo anche una Wii U con Splatoon 1, quindi retro gaming. Guarda come sono professional, tutto montato, c'è il proiettore, spettacolo, ci sta Killer, sì c'è Killer, non so, è arrivata nel frattempo un sacco di gente, e qui c'è veramente veramente tantissima gente, inizio a confondermi chi è chi. Pts vi saluta un sacco di gente, non mi calcola nessuno, salve vi saluta un sacco di gente, va bene, ci sono, c'è un traffico di pts, cotoletta, n'acoscia, chi è cotoletta, n'acoscia? Come, di preciso, come fai a confondere anacoscia con cotoletta? Spiega. Non lo so, prima ho detto cotoletta, e adesso mi è venuta anacoscia, non so, magari anacoscia. No, perché c'è nel senso crocchetta e cotoletta, posso capirla la confusione, ma tra anacoscia e cotoletta un pochino mi lascia un pochino perplessa. Però va bene, è bello così, il mondo è bello perché è vario, esatto. Vediamo un po' se qualcuno ci commenta. Ha ha ha, pain shock o pee. Sì, vabbè, ma non importa che siano pee, qui non ci importa dell'essere pee, Daniele non ha neanche mai giocato a Splatoon, non sappiamo nemmeno se ce l'abbia a Splatoon. In stazione, per cui bisogna che lo vada a recuperare. Andiamo a recuperare l'ultimo tusco. Comunque, andiamo in giro, abbiamo attivato la postazione Splatoon 1, a cui sta giocando un bimbo. Deve diventare un Nintendaro. Siamo tornati, adesso stanno giocando Rainmaker, Rainmaker. I team sono equilibrati, equilibratissimi. Perché sta giocando con il Lunar? Così. Hai rubato la console? Hai dichiarato da Nintendo sul sito Nintendo Street Zone che la console è tua. Come combattere. Ciò che trovi in terra è tuo. Passate 30 secondi si può... Entro 30 secondi lo puoi anche mangiare. Sarp! Ciao! Cosa fa? Cosa fate? Splatoon in Sheldendorf Institute. Niente di guace, non ne intendo di guarda! Una persona orribile sempre a fare queste linguacce, queste brutte facce che rovina reputazione. Male, malissimo! Malissimo! No, Nintendo ti guarda! Nintendo is looking at you! At you! Vabbè, lasciamo stare i miei inglesi. Zona Splat? Espiriamo i vostri equip, bravi! In realtà sto prendendo armi un po' così così perché sennò sarebbe troppo sfizio usare sempre la solita. Giusto, giusto! Ma è bello, è bello giocare a caso, è bello giocare a caso. Però lui c'è di là. Noi di là. Dove? Nel senso, che quadri siete? In questo quadri... La fate a caso e stiamo io con loro. Perfetto. Ma sì, ma è giusto così. Ma è bello fare... E poi si fa tutto in amicizia. Che si importa? Le squadre? Che cosa serve? Il secchiosto, spaccheresti... Sì, è vero. Il secchiosto, per esempio, è un po'... Ho piede e... Già, già che l'hanno... Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.